Mi chiamo Tommasi Brizio, ora sono abbastanza grosso, ma ero un atleta, mi allenavo 6 ore al giorno, poi per varie vicissitudini ho dovuto smettere e spero di ritornare quantomeno ad avere il peso di Ale, che il mio peso di Ale è 100 kg. A livello fisico mi sento bene, bene comunque, a livello peso e tutto quanto sto scendendo anche di peso e sì, sto avendo delle migliorie e sono molto contento. Dicevo prima a Loris che le mie gambe volevano andare ma il mio corpo no fisicamente, poi dopo invece sto un paio di giorni a questa parte e sto cominciando a vedere dei risultati ottimali e mi trovo molto molto bene e sono contento.